Vabbè ragazzi è stata una live bellissima Prima di staccare voglio rispondere un po' alle ultime domande Perché comunque Mi hanno fatto compagnia finora Mi chiede marcus44 di che cosa è la tua filpa Brava ma non si vede nero No 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 cazzo cazzo no No twitch no Mi dissocio Grazie